Taglio del nastro per Oshan, ipermercato di Pescara Aeroporto. A 20 anni dall'inaugurazione di questo ipermercato, che è stato uno dei primi a insistere sul territorio di Pescara, io mi trovo in compagnia del direttore dell'ipermercato, che è Riccardo Gara. Vogliamo sapere cosa c'è di nuovo oggi ad accogliere la clientela affezionata di Oshan e quella che verrà anche in futuro. Infatti l'invito è anche per tutti coloro che vogliono venire a vedere il nuovo ipermercato. Abbiamo messo veramente nuovi mestieri come appunto il bar, la pizzeria, una friggitoria, cociamo direttamente gli arrosticini e possono essere portati a casa. Un banco nuovo della pescheria e anche il banco delle carni, completamente rinnovato e con tutte le carni anche selezionate a Bruzzesio. Una cantina stupenda con più di 500 nuovi vini appunto abruzzesi e quindi diciamo che è tutto un ipermercato da scoprire nuovamente. Arosticini e anche cotti e mangiati? Fotti e mangiati, una cosa veramente nuova e quindi se uno vuole 10, 20, 30 arrosticini si li fa preparare, li può mangiare qua seduti dal nostro area di storo o può portarli a casa. La novità è anche che è stato aperto un bar proprio all'interno dell'ipermercato e quindi c'è questa novità, ci si può fermare anche semplicemente a sorseggiare un buon caffè e non parliamo della galleria commerciale ma proprio dell'ipermercato. Sì è un po' anche questa come dicevo prima la novità ma soprattutto l'orgoglio di aver fatto una partnership con Saquel che è appunto leader locale in contrastato sulla torrefazione qua di Pescara. Abbiamo aperto un bar all'interno dell'ipermercato insieme appunto a loro e sfruttando anche il loro know-how. Quanti dipendenti lavorano per il vostro marchio qui all'ipermercato Oshan di Pescara Aeroporto? Qui lavorano circa 170 dipendenti, poi ci sono naturalmente lavoratori stagionali, c'è tutto l'indotto, siamo circa 300. E poi naturalmente non va dimenticato tutto quello che è il marchio Oshan qui a Pescara. Abbiamo già tre nuovi ipermercati Oshan appunto che abbiamo inaugurato pochi mesi fa, in Viale Pindaro, a Tiburtina, adesso anche a Silvi e successivamente tutti i nuovi appunto cambi in segna con il nuovo marchio Oshan.